Buonasera a tutti, sono Roberto Corda, il nuovo direttore sportivo del Saronno, dopo vari anni pro patria, legnano nei professionisti e poi caronno negli ultimi tre anni sono stato all'Accademia Vittuone e da quest'anno sono venuto a far parte di un grande club come il Saronno Calcio proprio per un progetto in tre anni per poter dare il massimo contributo al Saronno Calcio e con nuovi elementi, infatti la nuova squadra di quest'anno sarà di 21 giocatori con vecchi rimarranno un paio, due o tre, il resto tutte nuove linfe da altre società di calcio abbiamo cercato di creare un bel gruppo, un gruppo di giovani che hanno voglia che vogliono fare il bene della società e quindi cercheremo di fare il meglio per il Saronno Calcio l'obiettivo di quest'anno sicuramente sarà un campionato tranquillo per mettere per le basi per il prossimo anno un obiettivo giusto per la piazza del Saronno, l'Inter regionale però ci penseremo il prossimo anno, quest'anno obiettivo di un campionato sereno tranquillo con un bel gruppo di giocatori sicuramente